molto importante tre vantaggio è il terzo giugno che fa il terzo che gli prendono non ti capisci ma non hai capito che fa po***o dai da sopra è va vediamo oggi guarda il nuovo reggino in natura ha detto Giovovovo da giugno guarda vuole pregi ma non è capito che fa po***o ma non hai capito che fa po***o di lido guarda il mare è capito che f***o di lido io non ti voglio sentire in città e vabbè ma Matteo e vabbè Matteo mi avete dato un bacio di cuore oggi ma cazzo che veramente mister che chiede il tempo comunque il gol del 5-6 ha fatto fallo per Camini con il Pian Laca sempre in difficoltà negli ultimi anni ma adesso sta veramente giocando una partita molto positiva sta meritatamente vincendo per il 5-2 la rimessa in gioco la lancia davanti in direzione di Rosa che bravo difendere il pallone avanza Rosa servizio la raffreddiamo applausi dopo cercheremo anche di portarlo alla nuova ripropolo per cercare anche di annunciare qualche intervista la Pian Laca è praticamente fatta siamo 6-3 eccolo quella è oh 6-3 la Pian Laca è il tiro non c'è la parata del pallone non c'è la tiraggando praticamente adesso è per 6-3 è per 6-3 tira tira il risultato meritato perché ci sono state diverse infezioni è per 6-3 oh Lucio 7-2 oh Lucio è per 6-3 oh Lucio oh Lucio touchdown è puro grande balla